Rave Rosse Cori Doc Rosso. Rave Rosse è un areale viticolo del comprensorio di Cori. È un areale caratterizzato da speroni di roccia calcarea di colore rosso che immagazzinano il calore del sole durante il giorno e lo rilasciano lentamente durante la notte. Questo lento rilascio di calore fa sì che l'uva montepulciano maturi alla perfezione in quel determinato ambiente. Infatti il Rave Rosse è un blend composto dal 50% di nero buono, 30% montepulciano e 20% cesanese. La tecnica di vinificazione è una vinificazione in rosso tradizionale in cui si cerca di ridurre il tempo di contatto e di macerazione sulle bucce per ottenere un'estrazione di tannini più soffici e un gusto più fruttato nel vino. Dal punto di vista organolettico il Rave Rosse si presenta di un colore rosso rubino con riflessi violacei. Al naso vi ha un tipico sentore di frutta rossa. In bocca presenta un gusto morbido e vellutato con tannini molto soffici. Ideale all'abbinamento con zuppa e carni.